Eccoci amici, bene, bentrovati, bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di TeleIbria Canale 178. Allora, ha piovuto molto nella parte nord della Sicilia, ha piovuto anche da noi a Ragusa ieri e a Marina di Ragusa oggi, ha piovuto anche abbastanza forte, però, attenzione, le previsioni parlano di Burian, vedete, alle mie spalle, e pare un film, Quando il gelo raggiunge l'Europa e l'Italia. Allora, vedete il blu scuro, addirittura si parla di un meno 16, poi si scende, si scende fino al meno 2, diciamo, all'altezza della Sila, là ci sarà tanta bella neve e poi da noi, però, insomma, ci sarà, si farà freddo. Vedete anche la Spagna, sulla Spagna però non ci sarà il freddo che abbiamo visto e le temperature saranno invernali, anche da noi. Io spero che ci sia un po' di pioggia, perché ci serve l'acqua, ci serve la pioggia, abbiamo visto anche immagini della diga, purtroppo la nostra diga abbastanza a secco, avevamo sperato che con quei giorni di fine novembre, inizio dicembre, insomma, si potesse aggiustare la situazione, non è stato così. Ora c'è Burian, farà freddo, ma ci serve molto la pioggia, perché, vedete, la pioggia poi ha anche un senso a livello dell'agroalimentare, noi parleremo di agroalimentare anche nella seconda parte del nostro indice. Allora, c'è una situazione particolarmente preoccupante, ne abbiamo parlato ieri, c'è un aumento dei prezzi nella grande distribuzione, ma ci sono i produttori che invece lamentano un calo fortissimo dei prezzi al mercato. E il mercato, tra l'altro, è al centro di una diatriba, di uno scontro fra i commissionari del mercato e dall'altra parte il sindaco Ciccio Aiello. Si è scatenata una polemica, io ho chiamato Ciccio Aiello, l'onorevole Aiello, per sapere come stanno andando le cose, era impegnato, però mi ha mandato un messaggio. Ora vi dico cosa dice il messaggio in seguito alla lamentela che c'è stato, che è stato così, si è verificato in un incontro svoltosi proprio per parlare dei problemi del mercato con il senatore Salemi. Naturalmente c'era un attacco concentrico nei confronti di Aiello perché avrebbe con un colpevole ritardo perso i fondi del PNRR per quanto riguardano i mercati. Io ho mandato subito il messaggio ad Aiello, dico c'è questa cosa, vorrei intervistarti per chiarire la situazione. Lui mi ha risposto e ha detto, ma quali finanziamenti? Perché in verità, lui mi dice, in verità, dice ancora, siamo alle ammissioni al bando. La posta in gioco è di 10 milioni per tutta la Sicilia, quindi non vi pensate che siano grandi cifre. Però l'invito di l'onorevole Aiello è rivolto proprio alla deputazione, proprio al senatore, dicendo si adoperino perché si riesca ad entrare in questa classifica. Noi abbiamo presentato un'istanza con un ritardo tecnico di tre ore. Io penso se è così che non si possa escludere un mercato per un ritardo tecnico di tre ore. Quindi su questa vicenda chiaramente ci sarà tanto da discutere e ci sarà anche tanto da fare perché magari i soldi 10 milioni sono... ma quanti sono i mercati a un certo livello in Sicilia? Sappiamo che per esempio Vittoria probabilmente è il più grosso che c'è in Sicilia, il più grosso anche del sud Italia, quindi è probabile che se si va a percentuali Vittoria abbia diritto a più di altri. Ma comunque questo lo scopriremo. Domani sentiremo le parti sia Aiello che dall'altra parte, non più i commissionari, ma vedremo dalla parte politica chi vorrà rispondere. Ci sono tantissime cose di cui parlare e dovremmo andare a parlare della regione. La questione del festival di Cannes la affronteremo dopo. Ora invece c'è stato un incontro stamattina del quale abbiamo delle immagini che fa riferimento ad una iniziativa che è stata proposta dall'Assemblea regionale, io dalla presidenza della regione, dalla regione insomma siamo dalla giunta e cose del genere. E praticamente il nuovo è ripresa Sicilia. Allora si tratta di investimenti da parte delle aziende con una certa possibilità di intervento grazie a questi fondi messi a disposizione dalla regione siciliana. Io quando leggo queste cose un po' mi spavento. Perché? Perché purtroppo sappiamo che spesso per ottenere i finanziamenti ci vogliono tante di quelle carte, tante di quelle dichiarazioni, tante di quel tempo perso che alla fine molte aziende che hanno da fare, che lavorano, che sono impegnate, non si ci mettono e lasciano perdere. Chi è che invece riesce a prendere i finanziamenti? Soprattutto coloro che hanno un organismo specializzato per aggredire, per accedere ai fondi e poi magari li spendono in qualche altro modo, come abbiamo visto che cosa è successo in questi tempi. Allora abbiamo una breve intervista all'assessore che ci spiega che cosa c'è in questo progetto della crescita della Sicilia. Vediamo.